quanto ti costerà non leggere questo libro è vero il titolo è un po provocatorio ma neanche troppo in realtà all'interno scopriremo secondo gli ultimi studi scientifici come funziona la nostra mente e come e soprattutto il perché facciamo scelte sbagliate nella vita ma prima di andare a vedere il particolare video di oggi come sempre ricordate il like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale il libro di cui vedremo qualche esempio pratico concetto senza dilungarci troppo un po come funziona sempre in questo canale si chiama pensieri lenti e veloci lo prendo eccolo qui è abbastanza spesso tra l'altro l'autore daniel cayman è uno psicologo israeliano che ha vinto il nobel per l'economia ovvero il massimo premio mondiale nel settore economico inoltre molte nozioni di questo libro sono la base del neuromarketing e della psicologia applicata al web quindi tra le più efficaci discipline per riuscire a convertire al massimo le nostre pubblicazioni web e dei social vediamo subito qualche esempio pratico di tutto ciò il primo concetto fondamentale di questo libro è riassunto nell'idea che la nostra mente è metaforicamente divisa in due parti la parte dei pensieri lenti e la parte dei pensieri veloci la parte dei pensieri veloci è intuitiva automatica e senza sforzo mentre la parte più lenta è riflessiva intelligente e analitica per decidere bene o comunque a nostro favore sia in ambito finanziario che negli altri aspetti della vita dobbiamo imparare a gestire bene questi due aspetti della mente il problema che ci porta a fare scelte sbagliate è spesso un tentativo di manipolazione conscio o inconscio dalla parte opposta quindi da un'altra persona la scelta sbagliata avviene perché in alcuni casi il sistema 2 ovvero quello intelligente ad analitico smette di funzionare bene e questi casi sono quando siamo coinvolti emotivamente quando siamo distratti da una spiegazione logica tattica utilizzata dai venditori e quando siamo stanchi o stressati quando il sistema 2 non funziona bene per uno di questi motivi prende il comando il sistema 1 e visto che il sistema 1 è poco riflessivo ed istintivo ci porta a fare la scelta sbagliata per esempio le persone che fanno trucchi di magia spesso concentrano la maggior parte del loro tempo cercando di distrarti con la logica in modo da inibire il sistema 2 e farti credere istintivamente che il trucco sia vero un altro esempio lampante questa volta riguardante la sfera emotiva è quando un truffatore fa leva sulle emozioni per esempio i truffatori che al centro commerciale o in altri contesti simili si spacciano per bisognosi e richiedono lemosina questi truffatori molto spesso fanno molti soldi perché utilizzano una delle migliori strategie utilizzate nelle vendite ovvero la leva emozionale ci sono un sacco di esperimenti sociali che provano questo sicuramente vi sarà capitato di conoscere o sentire qualche storia sulle persone manipolatrici in questo esempio molto diffuso tra l'altro le persone che subiscono delle manipolazioni solitamente lo fanno o per mantenere un'amicizia o comunque una relazione mentre le persone manipolatrici fanno leva sulle emozioni del malcapitato per sfruttare in qualche modo questa persona le persone che subiscono tutto questo molto spesso non si rendono nemmeno conto di essere manipolate perché come dicevamo coinvolte emotivamente per risolvere queste situazioni bisogna riuscire a distaccarsi emotivamente e guardare le cose da fuori ripristinando così la parte 2 della mente si elabora al tutto e ci si rende conto della situazione in pratica per non fare scelte sbagliate bisogna fidarsi al sistema 2 della mente prestando attenzione in modo che non venga sabotato dopo aver introdotto i concetti di sistema 1 e sistema 2 il libro parla di alcune tecniche utilizzate per ingannare la mente uno di questi è l'effetto ancoraggio un esempio di effetto ancoraggio è quando entriamo in un negozio di vestiti nel momento in cui addocchiamo un capo d'abbigliamento e guardiamo il prezzo spesso troviamo non uno ma due cartellini nel primo c'è un prezzo appositamente messo molto alto mentre il secondo cartellino è un prezzo più basso del primo ma che comunque potrebbe essere ingannevole siccome tendiamo a fare troppo affidamento alla prima informazione che vediamo tendiamo a percepire il secondo prezzo come economico e vantaggioso al di là del valore reale del capo una soluzione in questo caso è decidere prima di andare a fare shopping quanti soldi si vuole spendere altro esempio è quello delle auto concessionarie le prime auto che vedrai saranno quasi sempre le più costose mentre quelle poste più indietro sono quelle che costano meno ma anche se il loro prezzo è alto verranno comunque percepite come economiche perché meno costose delle prime macchine in mostra all'interno del libro ci sono poi moltissimi altri esempi e la maggior parte di questi va a sottolineare come in realtà non siamo così razionali come pensiamo questi esempi molto probabilmente non basteranno né a me né a voi per eliminare completamente le scelte sbagliate ma sicuramente avendone la consapevolezza aiuta moltissimo a ridurre questi errori se devo trovargli un difetto a questo libro direi che forse un po troppo lunghetto infatti sono circa 650 pagine ma secondo me ne vale comunque assolutamente la pena perché interessato vi lascio il link del libro in descrizione se il video ti è piaciuto come sempre ricordati il like e fammi sapere nei commenti cosa ne pensi di questo libro se l'hai già letto ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao